Buonasera ai telespettatori di RG7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto questa sera, dall'1 alle 4, chiuderà il raccorso Siccardi tra Piazza Arbarello e via Bertola per lavori notturni. Dalle 0 alle 6 chiude il sottopasso dell'ingotto per operazioni di pulizia e camminizzata. La linea 15 dalle 21 a termine servizio di stasera, domani sera e dopo domani sera subirà deviazioni di percorso in entrambe le direzioni. Sino al 25 ottobre invece la linea 75 subirà deviazioni di percorso in direzione Vallette. Veniamo alle notizie di domani, martedì 15 ottobre. Potatura Alber in Corso Lanza via Felicità di Savoia con chiusura a tratto di strada. Sino al 31 ottobre rifacimento Manto Stradale in Corso Nomara e in Corso Tortona. Dalle 10.30 alle 13 avremo un presidio fronte alla prefettura di Piazza Castello. Vi ricordo semafori in manutenzione fino alle ore 12 del 29 novembre in via Nizza, angolo Corso Raffaello e in via Nizza, angolo Corso Marconi. Chiudiamo con i controlli della velocità previsti per domani in via Petrocosta. Strada Aeroporto, Corso Potenza, Principodone, via Reis Romoli, Corso Marche, Casale, Moncadieri, Bramante, Ferrara, Orbassano, Inghilterra, Belcelli, Giulio Cesare, via Botticelli, Lungostura Lazio, Corso Trapani, Don Sturzo, Novara, via Bologna, Corso Peschera, via Mazzarello, Corso Francia, Rosselli, Tattoli, Cosenza, via Guido Reni, Cassetti d'Ardo, Corso Unione Sovietica, via Rettimiglia, Corso Giambone, via Pio VII, onorato Viviani, Zino Gini. È tutto, buona serata, buon viaggio.